Oggi parliamo di una tecnica di studio che permette di combattere la procrastinazione mantenendo un focus costante per tutta la giornata. Se volete informazioni valide, mi raccomando, rimanete con me! La procrastinazione è quel comportamento che ci spinge a ritardare un'azione nonostante prevedibili conseguenze negative. Ma perché rimandiamo sempre lo studio di una materia difficile o il fare degli esercizi complessi? Oggi vi parlo della tecnica del pomodoro che permette di risolvere questo problema. Questa tecnica si basa su un concetto molto semplice. Noi spesso rimandiamo e rimandiamo un'attività perché magari troppo complessa o troppo lunga. Ma fidatevi che molto spesso il vero blocco sta nel cominciare o meglio nel pensare di dover cominciare questa attività. Ed è difficile superare questo blocco iniziale. Me ne rendo conto anch'io perché tra virgolette sono stato anch'io vittima o comunque ho provato questa sensazione di blocco iniziale come se avessi proprio un blocco mentale che non mi permetteva di sedermi sulla sedia e cominciare. Ero proprio bloccato psicologicamente ed è difficile oltrepassare questo blocco iniziale. Bene, questa tecnica risolve il problema suddividendo un'attività più complessa in blocchi di mini attività più semplici. Allora il metodo nello specifico è stato inventato nel 1980 da Francesco Cirillo che è semplicemente uno studente universitario che ha chiamato così il metodo perché utilizzava per appunto applicare il metodo un timer a forma di pomodoro. E non so voi ma io onestamente in vita mia fisicamente mica l'ho mai visto un timer a forma di pomodoro, cioè non pensavo minimamente dell'esistenza di un timer a forma di pomodoro. Dai, a parte gli scherzi, io sto provando questa tecnica già da un paio di settimane e devo dirvi che sono arrivato a delle conclusioni molto interessanti. Però prima di parlarne vediamo nel dettaglio come funziona questa tecnica. Allora la cosa fondamentale intanto è definire l'attività o la serie di attività che bisogna svolgere. Io per farlo sfrutto la mia agenda in modo tale da avere chiaramente scritto cosa devo fare. Una volta fatta questa operazione finalmente possiamo cominciare a studiare. Allora il metodo consiste nell'impostare un timer e studiare per 25 minuti. Allora poi per quanto riguarda il timer, quello che è utilizzato è indifferente. Io onestamente non ne ho tipo uno meccanico, ah beh è tipo una sveglia. Semplicemente sto utilizzando il cellulare e questo da un punto di vista si è comodo però magari può essere scomodo perché avete una fonte di distrazione sempre davanti agli occhi e mi rendo conto che questo magari a volte possa essere problematico. E infatti a questo proposito, ma io in realtà consiglio di farlo sempre in ogni sessione di studio, ma comunque prima di cominciare per evitare distrazioni in futuro e quindi interrompermi magari durante la sessione di studio cerco di mettere in modalità aereo il cellulare. Trascorsi 25 minuti abbiamo completato un pomodoro e per ogni blocco di lavoro da 25 minuti, quindi ogni volta che si completa un pomodoro, dobbiamo segnarlo su un foglio. Una volta che passano i 25 minuti adesso abbiamo diritto a 5 minuti di pausa, dove mio consiglio staccatevi assolutamente dalla posizione in cui studiate, alzatevi, fate un po' di stretching, andate in bagno, bevete un po' d'acqua, insomma qualcos'altro rispetto a stare fissi in quella postazione. Ed altro consiglio non usate assolutamente il telefono, specialmente Instagram, perché intanto c'è il rischio che non riusciate ad interrompere determinati 5 minuti. Alla fine Instagram è un social fatto per distrarci e per catturare la nostra attenzione e quindi effettivamente lo scopo di Instagram è farci rimanere incollati più tempo possibile. Quindi almeno per mia esperienza personale dico ok dai mi faccio due minuti di scrollata sul feed, però effettivamente non sono mai 5 minuti perché magari perdo pure mezz'ora e neanche me ne rendo conto. L'unica cosa magari che poi dopo me ne pento tantissimo perché dico ma come cavolo ho fatto a perdere così tanto tempo inutilmente. Non appena suona il timer e quindi effettivamente sono trascorsi i 5 minuti di pausa bisogna essere super e dico super disciplinati a ritornare subito in postazione. Quindi con rigorosa disciplina torniamo a sederci nella nostra zona studio e rimettiamo il timer per altri 25 minuti e completato il secondo pomodoro di nuovo altri 5 minuti di pausa e si ricomincia. In ogni caso completati questi quattro pomodori abbiamo effettivamente adesso diritto al big break che sarebbe appunto una pausa più lunga. Allora il metodo almeno ufficialmente indica 30 minuti di pausa come big break però effettivamente almeno io ho cominciato molto prima quindi più o meno ho fatto tipo 15-20 minuti di pausa che mi sono sembrati sufficienti però effettivamente questo poi va a discrezione di ognuno. E ovviamente concluso il big break il metodo ricomincia da capo. Adesso mi sembra abbastanza ovvio che non tutte le attività sono scomponibili in blocchi da 25 minuti. Può anche capitare che finiamo prima dei 25 minuti e a questo proposito Cirillo stesso ci spiega che se cominciamo un pomodoro dobbiamo anche finirlo quindi dobbiamo aspettare 25 minuti e quindi che il timer suoni. Chiaramente questa è una sentenza molto rigida però lui stesso ci consiglia di sfruttare il tempo rimanente a nostro vantaggio. Ad esempio possiamo rivedere o approfondire l'attività appena completata oppure possiamo riorganizzare le cose da studiare prossimamente. Inoltre mi è capitato che suonasse il timer mentre ancora stavo svolgendo un esercizio ma di non volere interrompere perché ero nel flow ero concentrato. Avevo preso il ritmo e non volevo interrompere perché in quel momento non mi sembrava conveniente e questo penso che vada bene perché comunque il metodo deve agire a nostro vantaggio e poi fate conto che la vera forza di questo metodo è nel superare quel blocco iniziale che non ci fa cominciare quell'attività pesante, quell'attività difficile e una volta preso il ritmo e quindi superato il blocco non è più necessario fermarsi categoricamente ogni 25 minuti se non ne sentiamo il bisogno. Io personalmente ho trovato molto utile questa tecnica magari nelle giornate in cui non mi va di studiare, sono stanco, scarico o magari non ho voglia di fare delle attività complesse e quindi le procrastino, procrastino, procrastino perché proprio non ho voglia di cominciarle. In casi del genere la tecnica del pomodoro mi è veramente utile, non lo so magari ho un'attività molto complessa che procrastino da giorni e bene dico dai faccio questi 25 minuti però io già vedo lo spiraglio della pausa e questo spiraglio mi aiuta tantissimo intanto a superare il blocco iniziale e piano piano pomodoro dopo pomodoro a costruire un ritmo e quindi magari piano piano anche a completare questa attività super difficile, super complessa che procrastino da giorni. E inoltre vi dico durante la prova di questo metodo ho ridotto tantissimo se non annullato l'utilizzo del telefono durante le pause e i 5 minuti di pausa si sono rivelati sufficienti per recuperare energie mentali e anche ripartire al meglio. Mi sono veramente trovato bene con questo metodo e onestamente la ritengo una strategia di studio molto valida, ma in futuro continuerò a usare questo metodo? Sicuramente questa prova mi ha influenzato positivamente e ho anche capito il valore delle pause fatte bene. Inoltre ho capito che se magari ho un problema molto complesso una strategia valida è quella di scomporre il problema e affrontarlo pezzo per pezzo. Sicuramente il metodo del pomodoro è una valida tecnica di supporto che mi permette magari di superare questo blocco iniziale e quindi magari portare a termine un'attività complessa che se no normalmente avrei procrastinato e procrastinato. E sicuramente in futuro ci saranno molte situazioni in cui mi sarà utile. E inoltre ci vengo anche a dire che questo metodo presenta numerose varianti perché effettivamente sì c'è un modo canonico classico per attuare questa tecnica però effettivamente ognuno di noi studia in maniera diversa e ognuno di noi funziona una cosa differente. Quindi il mio consiglio personale se magari siete interessati provate questa tecnica cercate di capire cosa funziona cosa non funziona e cercate appunto di migliorare le cose che non funzionano cambiando qualcosa perché comunque è anche da lì che nascono le varianti. Adesso una cosa molto importante questo video potrebbe essere il primo episodio di una nuova serie in cui provo e poi discutiamo assieme di tecniche strategie di studio fatemi sapere se un contenuto del genere vi può piacere e se magari avete proposte idee consigli lasciatemi un commento che a me fa molto piacere avere un vostro feedback e comunque mi aiuta tantissimo anche a cercare di capire cosa vi può piacere. Detto questo se siete nuovi del canale vi chiedo anche di considerare l'iscrizione per evitare di perdervi nuovi contenuti che vi possono essere utili e interessanti. Io vi saluto e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video